La cooperazione tra Italia e Francia è al centro del piano integrato transfrontaliero detto PIT, che il programma operativo Italia-Francia Alcotra sta portando avanti nell'ambito delle spasmo en blanc. Il PIT è uno strumento che consente di migliorare la capacità di pianificare le politiche pubbliche agendo contemporaneamente su molteplici fronti. Sono sei i progetti previsti nel periodo 2007-2013. Il campo di base dell'espace Montblanc riguarda la messa in opera di azioni che favoriscano lo sviluppo durevole dell'area del massiccio più alto d'Europa, preservando nel patrimonio ambientale e paesaggistico e studiando nelle caratteristiche dal punto di vista scientifico. Il progetto Montblanc Village Durable è nato invece per aiutare cittadini e amministrazioni comunali dei paesi dell'area del Monte Bianco a ridurre i propri consumi energetici e orientarsi verso le energie rinnovabili. Il progetto Saveur d'Auteur punta a valorizzare i prodotti del territorio. La salvaguardia del territorio passa attraverso la promozione dell'educazione ambientale. Per questo un altro progetto del PIT, intitolato Education à l'environnement, prevede vari percorsi formativi destinati a vari tipi di interlocutori, scienziati, tecnici, turisti, cittadini. In particolare sono stati organizzati degli atelier di sensibilizzazione ambientale che si svolgono previa prenotazione tutti i mercoledì alla casermetta al Col de la Seigne. Un'equipe italo-francese di animatori specializzati propone attività di educazione ambientale attraverso approfondimenti tematici riguardanti la fauna, la flora, la geologia, i ghiacciai, la medicina di montagna e le energie rinnovabili. In questa idea di preservare e di conservazione, c'è anche l'aspetto sensibilizzazione e informazione auposti dei randonei, auposti dei touristi che sono sul tour del Mont Blanc e la casermetta è fatta per questo, per rinnovare questo ruolo di sensibilizzazione e di educazione all'environnement. Per questo abbiamo un'applicazione di utili, una maquetta in 3 dimensioni che ci monta tutto il tour del Mont Blanc. Abbiamo fatto anche la sensibilizzazione e l'initiation all'environnement. Ogni settembre abbiamo più di 6.000 persone che vengono a fare visite alla casermetta. Un altro progetto, Mobilità Durabile dall'Espace Mont Blanc, punta a rilanciare la mobilità sostenibile nell'area della frontiera franco-italiana, incoraggiando l'uso di autobus e navette. In particolare è stata attivata in via sperimentale la navetta Alpis Graia, che collega i comuni di La Salle, Morgé e La Tuille, al colle del piccolo San Bernardo, con tappe nei punti di partenza dei principali itinerari escursionistici. Nell'ambito del progetto Autour du Mont Blanc, incentrato sulla promozione del trekking e in particolare di tutte le attività legate a questo sport, compresi il turismo sociale e la mobilità dolce, si inserisce un'attività molto importante intitolata Montagne Pourtus, di una serie di appuntamenti e di servizi organizzati di concerto con la Fondazione Montagna Sicura, varie amministrazioni comunali e l'associazione Sport per Tutti. L'obiettivo è quello di avvicinare i disabili e le loro famiglie alla montagna. Lo scopo è quello di offrire e promuovere le opportunità che ci sono intorno al Monte Bianco anche per un pubblico con bisogni speciali, quindi per le persone con disabilità o con altre esigenze, fare un avvicinamento molto soft e divertente al mondo della montagna. Quindi due saranno le persone impegnate, uno che scala e uno che fa sicura, però il resto del gruppo darà una mano a questi due affinché si preparano con tutte le cose a posto per fare quella cosa, ok? Sottati! Aiuto! Piano! Piano piano piano! Oppala! Grazie a tutti